Ha visto alzare la gronda e è andata giù. Poi sono andato a chiudere la persiana, che c'è una persiana aperta, non ho fatto neanche un tempo a aprire la cosa, mi buttava via ogni cosa. Grossi alberi divelti, tetti scoperchiati, addirittura un'azienda che è stata colpita da un grosso albero, proprio qui a Pieve al Toppo. Sembra essere proprio il comune di Civitella in Valdichiana tra i più colpiti. Dall'ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Arezzo. Nell'Arettino sono state le raffiche di vento, alcune oltre 100 km orari, a causare i maggiori danni. Si riusciva nemmeno a tenere le persiane chiuse, proprio perché il vento spingeva verso la casa, i vetri uguali, poi ha iniziato a piovere nelle stanze. A Dolmo, alle porte di Arezzo, è stata divelta la copertura di un capannone, mentre a Pieve al Toppo, a Civitella in Valdichiana, un calzaturificio è stato colpito da un pino. Si è cercato di portare fuori i scatoloni con il prodotto finito, te l'hanno portato via più di 600 paio di scarpe, però c'è rimasto il semi lavorato e parte del lavorato ancora in mano via. E ancora tetti scoperchiati, alberi secolari buttati giù come birilli. Qui siamo a Pieve a Socana, frazione del comune di Castelfocognano, in Casentino. Una cosa tremenda, sembrava quasi un sisma, 10 secondi, 20, esagerare, però con una violenza estrema. Ho avuto anche paura. Decine le famiglie rimaste senza corrente elettrica per ore. Alla fine supereranno quota 100 gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della racchetta, in una notte che lascia dietro di sé innumerevoli ferite. Tutti detti da risistemare, sperando che si calmi, perché ancora a me sembra che ne abbia tanta voglia di calmarsi.